Bene, 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 tutto io, tutto quello che parlo E devo farlo a partire, e devo chiamarlo B- athletesCRetti Allora, farò spingere messo proprio prima P- che passate Grazie di parola, di capire, lui mi spera qua, lui è stato molto affrontato il suo, con molta tranquillità, ok? Perfetto. Lui è partito così perché non ha sentito l'applauso a tutti. Alvide, sei pronto? Possiamo partire? Sì. Tutto tuo, mi trovo? Sì, la porta via. Sì, la porta via. Ok, scusate se siete ulti, non stiamo lavorando contro voi. Bene, aspettiamo. Ok, controllo, cosa è un'altra? Ok, vai! sono buon Ahahahah! Ahahahah! Buona! Eh! 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 ECC! Calma a casa! Diutola! Si! ECC! Oh! Eh! ... ... ... ... ... ... ... Basta! E' un'altra cosa più bella, penso Tom Moreno. Allora, per i tivi bianco, i partiti bianco, i partiti drive, i partiti drive, i partiti drive. E' un'altra cosa più bella, penso Tom Moreno. Adesso voglio la comunazione di tutti, con la comunazione. E' un'altra cosa più bella, penso Tom Moreno. Paga giù! Stiamo anche a fondo dai! Paga giù! Ogni anno, ogni anno non ti ha mai! Puoi partire? Vai, vai! Ok! Paolo Secchito! Maiolo! Vai! Canta! Canta! Maiolo, canta! Canta! Grazie 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 Ricomitiamo Ricomitiamo Grazie 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 ato Salute Latorre Zucure Cappellate Influenza Modale Signature brazo Grazie! Adesso! 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 Mi gusto! Capanna! Lo vengo a fare! Ok! Oltre! La reazione! A fare! Lo vengo a fare! Salute! Salute ancora! Salute! 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 Grazie, l'unico che vuoi fare il finale. Grazie, l'unico che vuoi fare il finale.